Infatti il punto è, professor Canforo e poi Peter Gomez, i due attivisti che hanno presentato ricorso e dato il là a questo che stiamo vedendo, pongono una questione, cioè ormai contano soltanto quelli in Roma, cioè il movimento nato per sfasciare un sistema di potere corrotto, obsoleto, gerontocratico, si è fatto potere e facendosi potere segue la liturgia, i meccanismi e il corso di un normale partito politico e quindi gli attivisti si sentono in qualche modo traditi e mettono un bastone nel meccanismo, nell'ingranaggio. Questa è la foto che noi vediamo, ma è un testa coda anche della direzione di marcia e delle ragioni per cui il movimento è nato. Professor Canforo e poi Peter Gomez. Io credo che loro siano in preda ad un cupio di solvi, come si suol dire, perché è dissennato, è scervellato, colui che porta in tribunale delle carte per impallinare un leader così faticosamente costruito e messo al vertice. Loro vivono, secondo me, è la mia impressione perlomeno, come se questa legislatura fosse l'ultima della storia italiana, perché è quella nella quale hanno un sacco di deputati. Sanno benissimo di aver fatto un disastro col taglio dei deputati e dei senatori che produrrà per loro, non dico l'estinzione, ma quasi, della prossima legislatura. Il che è doloroso per loro, naturalmente, ma è un po' imbarazzante per tutto il resto dello schieramento politico, perché rende evanescente un alleato potenziale o quasi alleato del PD. Rende possibile, purtroppo, una maggioranza autosufficiente di centrodestra, se loro riusciranno a rimettersi d'accordo. Quindi hanno fatto due o tre disastri e ora sono in preda a una guerra per bande tra loro medesimi. Direi che un disastro maggiore nella storia parlamentare non si è mai visto, ma neanche il movimento di Giannini, dell'uomo qualunque, finì in modo così paranoico.